Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Buongiorno telespettatori e ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. È un appello unanime e corale quello che arriva dal mondo dell'associazionismo bolognese, in particolare artigiani e commercianti, a modificare concretamente il piano di Bologna 30. Proprio con l'obiettivo di rafforzare questo fronte comune è stato fissato un incontro previsto per giovedì prossimo, in cui verranno avanzate delle proposte concrete per cambiare, se possibile, il piano Bologna 30. Facciamo il punto in questo servizio. Commercianti ed artigiani reclamano modifiche a Bologna 30 e vedranno giovedì 15 febbraio l'amministrazione nella sede di CNA in Viale Aldomoro. Ci saranno, come fa sapere la stessa CNA, Conf Commercio Ascom, Conf Esercenti e Conf Artigianato. Obiettivo? Strappare soluzioni migliorative alla giunta comunale. CNA vuole che le strade bolognesi siano sempre più sicure, ma allo stesso tempo non apprezza che la città si fermi. Afferma Antonio Gramuglia, presidente bolognese degli artigiani. Per questo motivo avanzeremo delle proposte concrete affinché il piano possa essere migliorato auspicando almeno qualche correzione. La maggioranza delle nostre imprese conferma che i tempi di percorrenza dei mezzi si sono allungati, ribadisce Gramuglia, con una grave perdita di competitività. Urge dunque a portare, se possibile, qualche modifica. L'incontro sarà la prima azione tra quelle annunciate nel recente protocollo d'intesa, siglato pochi giorni fa da commercianti e artigiani, con l'obiettivo di costruire azioni comuni e coordinate per tutelare la media, piccola e microimpresa. La novità che è emersa nell'ultimo questionario è che ha aumentato il numero delle imprese che si dicono interessate a modificare concretamente il piano originale. CNA conclude Gramuglia come sempre ascolta la voce delle sue imprese e porterà questi risultati all'attenzione del Comune di Bologna, confidando che questa voce venga ascoltata dalla Giunta Comunale. Cambiamo argomento. L'Emilia Romagna garantisce ai malati il diritto al suicidio assistito. Con una delibera ha istituito infatti un comitato etico e indicato alle ASL le linee guida. Facciamo un punto in questo servizio di Giuseppe Piloni. L'Emilia Romagna garantirà ai malati il diritto al suicidio assistito. La Regione ha completato il percorso per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, affinché possa essere garantito al malato il diritto di congedarsi dalla vita, nel rispetto della sua volontà, autodeterminazione e del suo concetto di dignità. La delibera istituisce un comitato etico e indica alle ASL le linee guida. L'Emilia Romagna dunque ora è provvista dalla procedura necessaria per gestire casi di richieste di suicidi medicalmente assistiti. Può andare avanti con la semplice delibera e non è necessaria via libera del Consiglio regionale. Se ne discuterà martedì prossimo, ma al fine vita è già possibile, come spiega l'assessore regionale Raffaele Donini. Sì, questo diritto delle persone che appunto versano in condizioni terminali, con sofferenze enormi sul piano fisico, psicologico e ovviamente capaci di intendere e di volere, che richiedono questo trattamento, questo diritto che la Corte Costituzionale ha sancito in Emilia Romagna oggi è esigibile. E' esigibile sulla base del fatto che abbiamo nella giunta di lunedì scorso approvato la delibera per la Costituzione del Comitato Bioetico nella Clinica, che non si occupa ovviamente solo del fine vita, ma anche formula pareri sul fine vita, e poi abbiamo firmato le linee di indirizzo per quello che riguarda le linee guida, per quello che riguarda le nostre aziende sanitarie territoriali, disciplinando tempi, modalità e anche procedure per accompagnare questo trattamento. Questi provvedimenti sono stati adottati dalla giunta e dalla direzione generale dell'assessorato e ripeto, danno esecuzione, danno attuazione, esigibilità ad un diritto costituzionale sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale. Diverso è il caso del dibattito politico, dell'esame delle proposte di leggi, che ovviamente avverranno nelle modalità e nelle formule che deciderà l'Aula. E poi per la cronaca, un giovane di 19 anni, mercoledì mattina, ha rubato una giacca del valore di quasi 800 euro da un negozio di abbigliamento situato davanti alla questura di Borugna. Quando un dipendente si è accorto del furto, ha chiesto aiuto, richiamando l'attenzione di alcuni agenti che erano usciti dagli uffici. Il ladro è stato poi fermato mentre stava cercando di correre in direzione del comune. Il giovane, di origine egiziana, con precedenti alle spalle, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Ed ora parliamo del futuro dell'ex caserma Masini nel quartiere Santo Stefano, perché alcune associazioni si sono unite ed hanno partecipato all'avviso pubblico del comune di Bologna per la gestione degli spazi con un progetto che tocca diversi punti. Sentiamo quali nel servizio di Maria Elena Mele. Un cuore apposto della O di Cordata, come a rafforzare e identificare la passione che i residenti hanno per il quartiere. Cordata Masini è di fatto una rete di associazioni che si sono unite per partecipare all'avviso pubblico del comune di Bologna sulla gestione degli spazi dell'ex caserma nel quartiere Santo Stefano, luogo di occupazioni ultima, più recente dello scorso anno e ora verso una riqualificazione strutturale e sociale. A questo guarda Cordata Masini, con un progetto che tocca diversi punti, dalla cultura allo sport, passando per le attività educative e la cura del sociale. Noi pensiamo che se si vogliono restituire alla città di Bologna quegli spazi, bisogna puntare su una proposta culturale di qualità che sia compatibile e riconoscibile per le esigenze dei residenti. Per esempio si può fare musica e aggregazione, ma anche con la musica classica. Noi anni fa in Piazza Verdi portammo il conservatorio, che fu entusiasta. Bisogna pensare a uno spazio che sia accogliente per tutti, dove tutti si possano sentire a loro agio, i giovani, ma anche gli anziani, le mamme con i bambini, con attività di animazione, che possano servire anche per qualificare quello spazio come uno spazio di socialità positiva. Ecco, noi pensiamo che questo sia utile per quegli spazi, non un generico contenitore in più, ce ne sono già tanti, mancassero, ma di contenitori rocche e birra ce ne sono già tanti. Lì serve uno spazio che ricucia la ferita tra quegli spazi e i residenti, tra quegli spazi e il quartiere. Vorremmo recuperare il genius loci di quel luogo, che fu un convento di servite di Sant'Omobono, poi di Carmelitane e Scalze, poi fu caserma, in particolare adibita all'utilizzo sportivo, ma fu anche carcere militare durante la Seconda Guerra Mondiale, fu luogo di liberazione quando arrivarono i partigiani e ci piacerebbe che queste tante anime del luogo si riflettessero in un progetto multiforme che desse voce ai reali bisogni e anche alla complessità della realtà sociale del quartiere. Ed ora la pagina politica con una destra che sta fallendo ed una sinistra inconcludente. L'unica speranza è che si vinca al centro, in Europa e in Italia. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Bologna ieri per presentare il suo ultimo libro dal titolo Palla al centro. C'era per noi Giuseppe Piloni. Per le regionali in Emilia Romagna c'è un anno ancora. Prima dobbiamo vincere le europee e dopo si parla di regionali. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dribbla così le domande sulle regionali in Emilia Romagna e l'eventuale terzo mandato di Stefano Bonaccini. Arrivando a Bologna a rappresentare il suo ultimo libro Palla al centro, Renzi precisa per un punto. Nessuna contrarietà è stata espressa sul terzo mandato dei governatori. In realtà noi abbiamo detto di essere contro il terzo mandato sulla questione dei sindaci. Renzi poi ribadisce, si vince al centro. La destra sta fallendo, avete visto quello che sta facendo il governo. È un governo che purtroppo non sta risolvendo i problemi degli italiani. Da quando c'è la Meloni ci sono più tasse e meno sicurezza. L'IRPEF agricola è solo l'ultima di una lunga serie di nuove tasse. La sinistra purtroppo con Schlein e Conte inconcludente. Allora sì, l'unica speranza è che al centro si vinca in Europa e in Italia. Lei si presenta da solo, farà alleanze? Noi ci presentiamo con la forza delle nostre idee ed è una grande occasione di chiarezza. Volete gli Stati Uniti di Europa o volete continuare a parlare del chiacchiericcio di questi giorni? Volete ragionare di elezione diretta del Presidente della Commissione di superamento del diritto di veto? Di più potere d'acquisto perché noi abbiamo un problema con i salari che è un problema grande come una casa di cui non parla nessuno? Oppure vogliamo continuare con il Pandoro della Ferragni, le polemiche della Meloni o della Schlein? Parliamo di cose concrete e vedrete che a quel punto noi faremo la differenza. Lei pensa di arrivare al 4%? Lo supereremo. In sala tra gli altri l'ex segretario cittadino di azione Andrea Forlani, diversi ex forzisti come Lorenzo Tomassini, Fabio Garagnani e anche l'ex ministro Gianluca Galletti. I dirigenti di azione hanno distrutto scientificamente la possibilità del terzo polo, dice ancora Renzi. A me pare incredibile che di fronte a una grande opportunità come quella che c'era, che era quella del terzo polo, ci sia chi segnatamente come dirigenti di azione abbiano distrutto scientificamente la possibilità che il terzo polo dava di essere un'alternativa sia alla destra che alla sinistra. E' un errore di calenda, pace in bocca al lupo. Ciascuno poi, come dire, raccoglie i frutti di quello che fa. Ed ora la cultura, perché al Mast è possibile da domani visitare fino al 30 giugno una mostra che affronta il tema delle mutazioni della società attraverso un mezzo un po' particolare, ovvero quello della videoarte. Vediamo. 29 artisti internazionali affrontano il tema delle mutazioni della società attraverso il mezzo della videoarte in una mostra intitolata Vertigo a cura di Urs Style, allestita alla Fondazione Mast di Bologna dal 10 febbraio al 30 giugno. Le galleries del Mast ospitano 34 opere video che analizzano, commentano, approfondiscono e indagano il rapido cambiamento in ambiti come il lavoro, i processi produttivi, il commercio, i traffici, i nuovi comportamenti, la comunicazione, l'ambiente naturale, il contratto sociale. La mostra è strutturata in sei sezioni tematiche, accompagnate da una serie di intermezzi, videoinstallazioni disseminate lungo il percorso espositivo che fungono da commenti agli eventi che costellano il presente, allo stato del mondo, alla condizione globale. Vertigo è costituita da opere video di durata molto diversa, alcune anche di varie ore, il cui audio è fruibile tramite telefono cellulare e cuffie, inquadrando i QR code accanto alle installazioni. Di fianco ad ogni opera sono inoltre indicate la durata, la descrizione del contenuto e l'area tematica a cui appartiene. Gli spazi espositivi sono stati allestiti con sedute per consentire una visione confortevole dei filmati. La mostra è pensata per essere scoperta in più di una tappa e i visitatori sono invitati a ritornare al Mast per completare la visione delle opere video. Il titolo della mostra Vertigo è veramente un simbolo di quello che avviene nel mondo di oggi e infatti manca chiarezza, abbiamo tantissime informazioni a nostra disposizione, tantissime informazioni che ci circondano, ma quello che manca è l'ordine, la capacità proprio di concentrarci su qualche cosa. Quindi avvertiamo questa sensazione che è una sensazione di vertigine, proprio di confusione. C'è un altro aspetto anche di questa mostra, oltre a quello della confusione e della sensazione di vertigine, che è quello degli ambiti. Gli ambiti dove riscontriamo che è aumentata vertiginosamente la velocità, che ha cambiato il nostro stile di vita e ha inciso tantissimo su diverse cose come il commercio, come i traffici. Ci sono 5 o 6 ambiti che vengono valutati come caratteristici adesso della situazione mondiale. Sono 39 gli artisti che hanno lavorato in questi ambiti e sicuramente se si aggiunge anche la componente audio che riguarda ciascuno di questi video, si può apprezzare meglio il senso di quello che ci vogliono trasmettere gli artisti anche in un modo giocoso. Ed ora lo sport con il basket, perché la Virtus esce sconfitta 81-78 dal confronto casalingo con il Monaco, che a questo punto la aggancia in classifica. Rita Mandini. Seconda sconfitta casalinga per la Virtus in Eurolega, la prima alla Segafredo Arena. Contro il Monaco la squadra di banchi ha difficoltà nei primi due quarti, che la vedono sotto di 10, 35-45. Si ritrova dopo l'intervallo lungo, ma non riesce a ribaltare le sorti dell'incontro. Non bastano i 21 punti di Bellinelli, altrettanti ne ha segnati Mike James dall'altra parte. 78-81 è il risultato finale con il Monaco, che aggancia la Virtus in classifica. Sono mesi che competiamo a questo livello e riteniamo di appartenere a questo livello, ma sono queste serate e occasioni dove legittimamente abbiamo tutti il desiderio di ottenere il meglio. Il finale di gara non ci ha premiato e, come detto, resta rammarico, ma anche la consapevolezza che queste tappe o questi momenti o questi episodi devono contribuire a renderci ancora più solidi, uniti e pronti per il prossimo appuntamento. L'Eurolega tornerà a fine mese con la gara casalinga contro Valencia. Ora per la Virtus è tempo di concentrarsi su campionato e Coppa Italia. Il primo impegno è domani alle 19 alla Segafred Arena contro Scafati. E con il basket si chiude il primo appuntamento informativo del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo che il Tg ritorna questa sera alle 19.20. Restate con noi. E-TV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it Costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it E ti connetti con la realtà che ti circonda.